Oggi partiamo dal fatto che molto probabilmente, se questo meccanismo non riesce a sciogliersi, l'anno prossimo la tassa sul rifiuto a Partenico sarà alle stelle, non certo per colpa del Comune di Partenico, ma vi spieghiamo solo in due parole che il conferimento dell'indifferenziata in una discarica a Trapani che poi la Trapani Servizi portava all'OICOS che è una discarica di Catania, l'OICOS per una sentenza definitiva del CGA ha chiuso perché non aveva i requisiti per poter conferire. Per cui la Trapani Servizi, dove ci appoggiamo noi per l'indifferenziata, ma non solo Partenico, ma anche tanti comuni del comprensorio, Balestrate, eccetera, eccetera, facendo un'indagine di mercato ha trovato un'altra piattaforma, ma pensate che il costo per competire la differenziata è aumentata di circa 100 euro a tonnellate. Noi parliamo da 230 e rotti euro invece a 300 e rotti. Quindi immaginate che c'è un maggior costo e immaginate che si prevede per l'anno prossimo un carico sui comuni e un carico sui cittadini perché la tassa dei rifiuti è tutta a carico dei cittadini, enorme se non si trovano soluzioni, come la SRR sta cercando soluzioni facendo appello al governo regionale, facendo appello a un fondo che il governo regionale aveva creato per gli estracosti e che quindi se ci sono questi 20 milioni, credo che siano circa 20 milioni di euro a disposizione per quanto riguarda questa possibilità degli estracosti, potrebbe ammortizzare altrimenti è la fine. E allora vogliamo parlare, fatta questa premessa, di quelle che sono a parte Nico le emergenze che vedete, i residenti di via Francesco Ramo, chi non avevano mai visto in anni e anni chi abitava in questa zona, questo è il territorio del comune, tanto per capire, è ridotto in questa maniera e pensate che vorrei ricordare che il comune fa le ordinanze per i poliziari i terreni cristiani per evitare gli incendi eccetera eccetera, l'avete presente? Però poi se noi abbiamo queste cose che un cirino in territorio comunale partono e abbampano qua tutta la zona, non succede niente, non si fa niente. Allora andiamo a mettere il raccoglio, noi il comune di Partinico per prima cosa deve dare l'esempio ai cittadini, cioè io pulisco quello che è il mio territorio e faccio l'ordinanza ai cittadini di Partinico di ovviamente pulire quelli che sono i terreni a rischio incendi. Fatta questa premessa, è fatta la premessa che ovviamente non abbiamo visto più, quell'assessore al verde pubblico al ramo tutto impegnato ogni giorno con le squadre, con le picciottette, con la pala, con le fotografie in favore di niente, scampò perché Perché funziona così, c'è… e poi un cecchio niente. Avevamo fatto dei servizi e lanciato appelli per quanto riguarda la pulizia del parco suburbano su Partenico e non si è fatto niente. Abbiamo avuto modo di vedere che il verde pubblico a Partinico di nuovo è allo sbando totale e mi chiedo, quando è che si apre Villa Falcone? C'è Arreston cantata perciò Villa Falcone, un giorno ti aprirai, si doveva aprire, si doveva ancora lavorare, ancora si buta, nel momento di luglio, di giugno si buta e a Partinico è l'eterna potatura e quindi Villa Falcone è chiusa. Puntata il parco suburbano allo sbando totale, qua l'erba avuta quanto cavolo è che, diciamo, 28 gradi, 100 gradi, può essere che io vengo ancora, non si sape, e teniamo i rariettapetti ancora in quelle zone pericolose dove c'è il pericolo che finisce da dentro, chissà il pericolo, però li teniamo apetti perché non c'è nessuno poi che è finito il maltempo e va chiù. Poi spero a Dio che mi dicono che molto probabilmente domani, sabato, dovrebbero essere sistemate, impiciate il Corso dei Mille, quelle buche, che non avessero a passare la precessione del Corso dei Domini, perché è buonissimo che avessero appeggiato persone anziane che carriano nel corso in quelle boraggine, Corso Beirut, ribattezzato. E tutto questo, tutto questo, ovviamente, chi ha quel presenzialismo, che presenta nel territorio, che sape tutte le cose, che perdia tutte le cose, che perdia i canteri, che perdia i canteri, tutto questo invece non viene visto. Ma c'è una cosa invece che viene visto e che abbiamo notato, nottetempo, l'ho fatto un beer, l'aereo c'era, non c'è su chiunque. È stato ripulito di quelli che sono i tronchi degli alberi potati nell'ex EAS, oggi AMAP, è distrutto raso al suolo il boschetto da parte dell'arresto, e di cui ancora aspettiamo risposte, scomparerò tutti i pezzi di ligno, scomparerò tutta la potatura, ingaggiarsi a pulizziare, forse perché molto probabilmente c'è indagini in corso e magari avranno a fare scomparire tutte le cose. E allora vedete, a parte di nico funziona così, che c'è un presenzialismo, un'iperattività, un'iperattività, potiamo, potiamo, partiamo, poi manca però la coerenza e la costanza di fare le cose. Era tutto antiche fumo, quel fuoco di paglia, piglinchere come ho soldo, l'occhio è cristiano e piglio e penio. Non funziona così amministrare una città. Ci vuole appunto, come dicevamo, coerenza, ci vuole costanza e ci vuole ovviamente, ognuno fa il suo travaglio, perché il capocantiero, ci sono i direttori dei lavori, pigliere a fare il capocantiero e controllare che le cose siano fatte per come si devono. Perché vorrei ricordare, e per chiudere, ancora una volta, che a oggi, non uno, non una sola cosa è stata fatta a parte nico, è programmata e messa in campo dall'amministrazione Rau, dal Rau e dal suo contorno silente. Non una sola cosa. Ma tutto viene dalla commissione straordinaria. Tutto quello che si è fatto viene e verrà ancora dalla commissione straordinaria, ma una cosa si fice. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. I peri albolo, la via Benevento, sono stati tagliati e addirittura pulizziati. Se non si sono stati tagliati, scompare pure i tronchi e vorresti capire che si portavano i tronchi e la ramaglia dei pezzi di pezzi di pezzi di pezzi di pezzi di pezzi. Mentre qua, cari residenti di via Francesco Ramo, potete stare, l'assessore al Ramo, aveva voluto che fare, è impegnatissimo, siamo tutti impegnati per stare a gusto.